Il nostro Monte San Giorgio è la prima propagine della catena montuosa, vederla per i piossaschesi vuol dire essere arrivati a casa. L'intera area del Monte San Giorgio è parco da 15 anni, è spazio vitale per le specie vegetali ed animali ed è luogo vissuto, rigenerante per i tanti bambini, ragazzi, adulti che in qualche modo lo frequentano sia come palestra a cielo aperto sia come abbraccio all'aria. L'impegno della nostra amministrazione non può essere quello che di custodirlo e consegnarlo biologicamente più vario e più bello.